Buonasera, sono Rocco Davenosa. Volevo sapere qual è la differenza dei lavori che si facevano negli anni 60, 70, 80 e oggi quei lavori che si facevano una volta non si fanno più. La differenza qual lo sarebbe? Le azioni vengono fatti più che altro in modo diverso perché sono un po' più complicati per la presenza nel sottosuolo di diverse reti che una volta non c'erano, pensiamo alla fibra ottica ed altro. Proprio per ovviare a tali difficoltà, Quedotto Lucano si è dotato di un'applicazione che abbiamo chiamato Appman, che ci consente di monitorare il lavoro eseguito in tutte le sue fasi e quindi ci consente di garantire la corretta esecuzione degli stessi.